buongiorno a tutti finalmente ci avviamo verso un'apparente normalità ovviamente non è tutto finito perché non possiamo fare le cose che facevamo prima però questo ritorno questo lento ritorno alla vita sociale ci riempie il cuore di gioia certo che siamo stati chiamati a riorganizzare la nostra quotidianità a rivedere i nostri stili di vita a fare i conti con l'isolamento e con la convivenza prolungata e forzata ma non siamo rimasti disarmati e impotenti abbiamo fatto di questo momento un'opportunità anche se ci siamo dovuti reinventare maestri reinventare psicologi per i nostri figli questa è stata una grande opportunità per noi abbiamo abbiamo scoperto delle doti personali delle buone abitudini abbiamo pregato abbiamo pregato molto di più di quanto facevamo prima preghiera personale preghiera coniugale e la preghiera con i nostri figli abbiamo coinvolto le nostre due bambine e abbiamo in pratica abbiamo sentito gesù dentro casa nostra e non abbiamo nemmeno tranciato i rapporti con con il resto delle nostre amici delle persone con cui avevamo contatti prima che venisse questa epidemia e in questo caso la tecnologia ci è venuta di soccorso infatti skype e zoomer erano i nostri sono stati i nostri migliori alleati allora sulla base di queste cose come non possiamo dare ragione a darwin quando diceva che la specie che sopravvive non è quella più forte o più intelligente ma è quella che si adatta al cambiamento quindi lasciamo sempre una luce di speranza accesa e siamo sicuri che tutti insieme tutti insieme ce la possiamo fare buona giornata